Innanzitutto io voglio ringraziare i 2400 matricesi che ci hanno dato la fiducia, è stata una bella esperienza e credo che ci abbia arricchito molto e ha arricchito la città. In questi casi quando si perde è sempre difficile motivare una sconfitta, ma credo che il primo motivo sia da ricercare nel voto politico. Già dalle europee alle provinciali il centrosinistra complessivamente ha perso 700 voti rispetto a 5 anni fa e partivamo con uno svantaggio di 300 voti sulla lista che è caratterizzata come centrodestra. Questo credo che sia il primo elemento da valutare, quindi a quel punto diventava veramente difficile ripartare un risultato, ci abbiamo provato. Poi è chiaro che altri elementi sono stati secondo me nella terza lista, pensavamo e forse in questo abbiamo sbagliato che era una lista di centro o di centrodestra, poi già dall'Udc così perlomeno era, invece in realtà hanno scelto, hanno captato molti voti anche di sinistra e questo sicuramente è un elemento che ha determinato questo risultato finale. Da questo punto di vista avete qualche rimpianto, comunque sia qualche pentimento per non aver mai ristretto delle alleanze in precedenza? Da parte nostra è chiaro che quando non si fanno gli accordi le responsabilità sono da tutte e due le parti, ma quando invece un accordo c'era in tutti i partiti di centrosinistra e poi invece chi ha firmato l'accordo, ha lavorato per costruire la terza lista, probabilmente le responsabilità hanno dei pesi diversi, hanno dei pesi diversi, noi ce l'abbiamo messo a tutta, ma è arrivando quindi ad un accordo complessivo. Poi ripeto, il giorno dopo l'accordo qualcuno che aveva sottoscritto quell'accordo ha cominciato a lavorare per un'altra cosa, legittimo, naturalmente legittimo, però credo che questa ci sia una responsabilità. Per quanto invece riguarda l'attuale maggioranza, si è anche appena decisa la giunta, appunto degli assessori, la squadra che governerà, voi sarete all'opposizione, insieme anche a due membri della lista ripartiamo, quale sarà, diciamo come vi attiverete all'opposizione? Guardi, prima di rispondere a questa domanda io vorrei ricordare un fatto che secondo me è fondamentale, la maggioranza aveva vinto, questa maggioranza in continuità nel 2004, aveva vinto con 450 voti di vantaggio e 3.450 voti. Oggi riporto il risultato che 2.700 voti o poco più, quindi perde 700 voti e non rappresenta più la maggioranza dei matelicesi. Questo è un elemento fondamentale dal quale bisogna ripartire, sapendo che Matelica, la sua maggioranza, non sta più con questa maggioranza. È una legge elettorale semplicistica che premia la governabilità e non invece la rappresentanza, che permette questo. In Consiglio Comunale 13 saranno di maggioranza con il 43%, solo 7 con il 57% saranno all'opposizione. Questo non significa che contestiamo il voto, assolutamente no, perché queste sono le regole, ma bisogna ricordarselo e bisogna che si ricordino anche questi che governeranno. Siccome, come dire, l'abbiamo spiegato in campagna elettorale, non hanno governato bene negli ultimi 10 anni, siamo molto preoccupati per i prossimi 5 anni e crediamo che faranno bene a tenere conto di questo dato che è politico e amministrativo, cioè che non hanno il consenso della maggioranza dei matelicesi. Noi siamo consapevoli e responsabili che rappresentiamo una grande fetta dei matelicesi, il 38%, quindi responsabilmente vogliamo rappresentare questi matelicesi e tutta la città, nel bene della città. L'opposizione sarà costruttiva, costruttiva è chiaro, ma sarà precisa e puntuale, cioè da qui ai prossimi 5 anni ne faremo opposizione su tutti gli atti, su tutte le delibere, su tutto quello che deciderà questa maggioranza con quelle caratteristiche. E lo faremo con una caratteristica fondamentale. Abbiamo avviato un percorso, un modo di fare che secondo noi è innovativo, quello del contatto e del rapporto e del confronto con le persone. In questa campagna elettorale abbiamo parlato con migliaia di persone, quel metodo noi lo vogliamo continuare ad esercitare anche come opposizione. Quindi dentro il Consiglio Comunale, attraverso un'analisi puntuale e il controllo degli atti, ma soprattutto tra la gente, quindi con alcuni strumenti, assemblee pubbliche, informazioni, contatti. Questo credo sia un elemento che ha arricchito la vita amministrativa della nostra città e non lo vogliamo perdere. Non lo vogliamo perdere. Poi all'opposizione non siamo da soli, ci sono i due rappresentanti della lista che candidava Casoni, quindi credo che sia opportuno. Adesso vedremo i tempi e i modi e se loro ragionano in questo modo, cioè sapendo che rappresentano una parte di Matelica e sapendo che dovranno lavorare per Matelica, contro questa maggioranza o comunque controllando questa maggioranza, credo che troveremo il modo di collaborare. Ha conclusasi appunto la tornata elettorale e amministrativa, ora immagino che aspetteranno altri obiettivi e il PD, o comunque sia la sinistra, come reagirà a questa ultima sconfitta. Certo. Guarda, di fronte a un risultato del genere in cui il Partito Democratico è responsabile come primo soggetto di una sconfitta di questo genere perché perde in tutta la nostra provincia il 12%, così come nella regione, non si può far finta di niente. Non si può far finta di niente, bisogna fare il punto senza nessuna ipocrisia, senza nessuna superficialità e ripartire. Le analisi, sai, sono sempre molto difficili, ma io credo che un elemento abbia giocato. Se noi pensiamo alla Lega, che a Matelica prende il 5-6%, quasi 400 voti, e noi conosciamo Matelica, sappiamo che non ci sono i problemi che ci sono nelle grandi città o nel famoso nord-est, ma c'è un partito così, che non ha rappresentanti, in un territorio in cui non ci sono quei problemi, e prende quel risultato, evidentemente c'è un elemento che ha giocato. Anzi, un paio di elementi. Il primo è la paura, nel momento in cui subentra la paura, in campagna elettorale le due questioni che ci domandavano di più, ma anche la gente del centro-sinistra, la gente normale, tranquilla, io non ho la casa popolare, ce l'hanno gli extracomunitari, io non ho il lavoro, ce l'hanno gli extracomunitari. Quando c'è una situazione di crisi e subentra la paura, come dire, si cerca la risposta più semplice, si cerca la risposta consolatoria, quella più semplicistica. Non si va dietro a un ragionamento un po' più complicato, progettuale, e quindi probabilmente il primo problema culturale e politico del centro-sinistra è questo, non avere una strategia per rispondere a questa paura. Quindi credo che dobbiamo lavorare molto su questo, dobbiamo lavorare molto su il radicamento del Partito Democratico, la formazione finalmente, la costruzione di un partito che risponda con i fatti, con un'identità propria e con un proprio gruppo dirigente alla crisi che abbiamo di fronte.